ciao ragazzi abbiamo già praticamente finito la mattinata perché sono arrivato super in ritardo a causa traffico sono entrato e avevano già iniziato quindi ho iniziato già a fare subito il level up adesso ho lasciato la gopro in macchina come un idiota entriamo all'eden vi faccio vedere l'eden e poi vediamo qualche salto che fa la gente della parte del level up del mattino ciao 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 come avete visto c'è tantissima gente da tutta italia le sfide sono fino all'una e quindi si andrà avanti fino all'una poi si comincerà ciao andiamo a fare un giro salutiamo le signorine ciao signorine buonasera signorine e si con la linda te lo sbagliavo si Grazie Grazie a tutti a questo meraviglioso evento Italia Borkour Games 2021 Io sono Lore, Giovanni Florenzi Ciao Si sente? Si sente bene? Saltate sopra, scurate il muro e la qui viene da dritta per dritta Vedrete la freccia che vieni per andare a sinistra Rissalirete via e passere ovviamente in pezzo alle spalle Da sopra, riscenderete dal buone, risalirete questo muro Toccate il bar e via Cosa importante da scuola Seguite... Il primo percorso è sempre per piano Come avete visto questo è il percorso dello speed Adesso inizieranno i più piccoli Poi ci saranno i più grandi E c'è un percorso solito con Buzz all'inizio e Buzz alla fine Quindi andiamo a vedere come va Abbiamo finito la parte dello speed La prima parte dello speed perché lo speed è diversificato in tre categorie La prima era lo speed andata e ritorno Il secondo è la checkpoint che è quello che andiamo a fare adesso E sto morendo ragazzi Grazie mille 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 Ho fatto la seconda parte di speed, quella checkpoint, sono morto dopo il level up di stamattina che era il primo contest Non ho più nulla, sono vecchio mi dispiace ragazzi lo sapete E adesso aspettiamo che finiscano la seconda parte dello speed e faremo la terza parte dello speed Che sarà touch and go, non so assolutamente, adesso vedremo E eh lo faccio dopo me Terza run di speed Sono due run per ogni tipo di speed Quindi abbiamo già fatto 5 run Manca la sesta e ultima Ho cannato un checkpoint Nel senso che ero convinto di averlo preso Ma lo riprenderò nella seconda run E lo speed con oggi è finito È stata dura Perché stamattina con il level up è stata massacrante Se volete sapere cosa è il level up Scrivetelo nei commenti Vi farò un video apposta solo per il level up Con anche la scheda delle cose da fare E se sono vicino Vi chiedo scusa E niente adesso facciamo qualche video Di trichettini nella buca E per oggi abbiamo finito Riquetito da qua Sì è I tô keep Stop Fa Girl Variet argh Variet Variet UA Va 1 2 1 2 10 Allora L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto e niente per questa prima giornata di pg è tutto siamo ancora le gambe ci vediamo domani